Buongiorno a tutti, mi chiamo Maddalena Cassinari e sono stata per 13 anni preside di istituzioni scolastiche del primo ciclo in provincia di Monzebrianza. A settembre 2020 ho concluso la mia esperienza come dirigente scolastico. Il mio ruolo come dirigente scolastico si è giocato sempre tenendo conto della realtà che avevo davanti, la realtà territoriale, l'utenza, studenti, genitori, il personale scolastico inteso tanto come docenti come personale non docente e amministrativo che avevo a disposizione, ma anche tenendo conto del contesto culturale più ampio, il contesto nazionale e internazionale e le varie sfide poste dal tempo e dalle circostanze. Ecco, nelle diverse situazioni ho raccolto la sfida, piccolo o grande che fosse e che mi veniva posta, cercando di intercettarne gli ostacoli e le criticità e domandandomi quale cambiamento, quale presa di posizione richiedesse a me o alla scuola quella sfida. Ho ragionato sui diversi strumenti che potessi avere a disposizione, la normativa in continua evoluzione, le risorse anche umane e professionali, gli spazi di autonomia scolastica e mi sono sempre domandata io come dirigente scolastico che cosa posso fare e in che modo per garantire la qualità del servizio educativo anche in fasi di estrema turbolenza come le esperienze del covid o del lockdown. Ecco, non ho imposto una mia visione di scuola, ma l'ho co-costruita insieme alle persone con cui ho lavorato. Io per temperamento non sono una che lavora da sola, leggo la situazione, ci rifletto, ma poi propongo, dialogo con le persone, lancio il confronto costruttivo, raccolgo quanto gli altri hanno maturato e condiviso con me sia in luoghi formali come il collegio docenti o il consiglio d'istituto sia in luoghi informali, vale a dire la quotidianità della vita scolastica. Credo davvero che il lavorare insieme sia un valore aggiunto per le istituzioni scolastiche, che se sperimentato certo nella fatica ma anche con soddisfazione dal personale implicato nell'ipotesi educativa della scuola resta come metodo, come strada, anche quando, come nel mio caso, la dirigenza cambia. Ho imparato e approfondito in DISA questa modalità di lavoro condiviso e sono grata all'associazione che mi ha permesso negli anni di maturare una maggior consapevolezza del mio ruolo, del mio lavoro, delle varie opportunità, anche con la proposta di momenti formativi particolari, mirati come i convegni seminari, che mi ha aiutato a sfruttare con intelligenza gli spazi dell'autonomia scolastica e che ha soffragato, sostenuto il mio tentativo di creare e diffondere nella scuola una cultura collaborativa basata sulla fiducia e sulla valorizzazione delle competenze personali, professionali e relazionali dei singoli, riconoscendo grande valore alla condivisione e al lavoro comune. A questo punto non posso che ringraziare davvero DISA per la compagnia professionale che mi ha regalato in questi anni e che ha permesso di riverbero alle mie scuole e al personale presente in esse di crescere. Grazie.